Il piccolo borgo medievale di Montone, arroccato tra le colline ed i boschi della Valle del Carpine e la Valle del Tevere, è stato invaso da tanti turisti per la 39esima edizione della Festa del Bosco. La manifestazione si è in questi anni costruita una grande fama a livello regionale e non solo, tanto da essere considerata unanimemente tra le manifestazioni autunnali umbre più suggestive e con la più completa offerta di eventi, iniziative e prodotti. Nella dimostrazione il ricco programma proposto anche quest'anno, caratterizzato da mercatini, degustazioni, escursione, arte, artisti di strada, giochi ecologici, musica, approfondimenti culturali e convegni. Siamo arrivati alla 39esima edizione, quindi è una tradizione che va avanti per il territorio, la mostra a mercato dei prodotti del bosco e del sottobosco, quest'anno ci vede impegnati in questi giorni e terminerà il primo di novembre. Oltre ai prodotti del bosco abbiamo valorizzato i prodotti dell'agroalimentare del territorio e delle nostre aziende con degustazioni gratuite, con anche dei convegni interessanti con la riscoperta di produzioni antiche di una volta. Poi, oltre ai approfondimenti culturali, anche passeggiate nei boschi per la conoscenza del nostro territorio, gli artisti di strada, band che allietano i visitatori e oltre anche le taverne rionali, le taverne che fanno degustare i nostri prodotti. Nella dimostrazione il ricco programma proposto anche quest'anno, caratterizzato da mercatini, degustazioni, escursione, arte, artisti di strada, giochi ecologici, musica, approfondimenti culturali e convegni. Particolarmente attrattivo il fatto che, durante l'intera manifestazione, il borgo cinto d'antiche mura si è trasformato esso stesso nella festa. Ogni piccola piazzetta ed ogni vicolo presentano sorprese al turista che si addentra nella città, con le vecchie cantine ed i fondi dei palazzi storici che si aprono eccezionalmente alle visite, ospitando artigiani locali e agricoltori con le loro tipicità enogastronomiche. Ovviamente non mancano, anzi la fanno da padrona, i frutti di prodotti della stagione autunnale, dalle castagne ai funghi fino ai tartufi. Quest'anno per i bambini e le bambine tante proposte dedicate, dagli spettacoli di marionette alla giostra a pedali, fino a un vero e proprio eco-villaggio dei giochi all'interno della festa, tutto dedicato a laboratori e giochi di una volta. Grazie a tutti!